Sarà una delle due zone rosse, con Piazza del Duomo. È quella delle case bianche di Via Salomone, in cui il Papa, dopo l'atterraggio a Linate del 25 marzo prossimo, farà la prima sosta nella sua visita a Milano. In Piazza del Duomo, come si apprende dalla prefettura, i varchi di accesso controllati saranno nove, mentre la zona delle case popolari appunto di Via Salomone sarà presidiata anch'essa in forze. In totale il comune di Milano, solo per la polizia locale, impiegherà oltre mille persone, per un numero di circa 420 pattuglie, 10.000 le risorse complessive schierate, 410.000 gli euro di spese investiti da Regione Lombardia per sicurezza e protezione civile, 4.200 i volontari impiegati per le strade. Alle case bianche è stato previsto un afflusso di 7.000 persone, di cui 4.000 si sono già iscritte, essendo abitanti della zona in parrocchia. Come ha detto in una conferenza stampa in Curia a Milano, il parroco della chiesa di San Galdino, Don Augusto Bonoro, accanto a lui Don Marco Le Calcati, che ha brevemente illustrato il momento della visita in carcere di Francesco. Ma il primo impatto milanese del Papa, come abbiamo detto, sarà le case bianche, dove oltre all'incontro con la gente nel grande spiazzo approntato all'aperto davanti alle case, Francesco entrerà in tre appartamenti, per dialogare una decina di minuti con ciascuna delle tre famiglie che sono state prescelte, proprio per il loro essere simboliche della presenza di tante altre situazioni simili nel quartiere. Una famiglia con una grave situazione di disabilità al suo interno, una coppia di anziani e un nucleo familiare di stranieri.